Il passaggio della scadenza del Green Pass da 9 a 6 mesi è una dura messa alla prova per i sistemi sanitari. Per questo già dal 3 gennaio il Piemonte alza l'asticella delle vaccinazioni a 50.000 al giorno per convocare tutte le persone con il certificato in scadenza. E quanto dichiarato dal presidente della regione Piemonte Alberto Cirio in occasione della visita del commissario straordinario per l'emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo agli hub vaccinali di Cuneo e Torino. Per noi vuol dire circa 375.000 inoculazioni in più da fare nel solo mese di gennaio. Il governo ha dato una finestra di durata del Green Pass fino al 1 febbraio proprio per permettere questo tempo però rimane il fatto che una regione come la nostra che ne aveva già 700.000 prenotati e poi che aveva ancora le prime e le seconde dosi da fare, il conto complessivo fa 1.350.000 inoculazioni che noi dobbiamo fare entro la fine di gennaio. Per mettere in sicurezza la vita delle persone ma anche per consentire che il loro documento amministrativo che è il Green Pass che gli permette la socialità, una socialità che in base anche alle ultime restrizioni del governo prevede sempre di più l'utilizzo di questo Green Pass rafforzato ci impone di chiamarli entro la loro scadenza. E quindi noi dal 3 di gennaio già dalla settimana prossima saliremo all'obiettivo delle 50.000 dosi giornaliere che ci permetteranno quindi entro la fine del mese di gennaio di vaccinare in tempo tutti coloro i quali hanno la scadenza del Green Pass che lo prevede. 3,4 milioni di euro per dare energia al sistema sportivo piemontese. La giunta regionale ha stanziato per le annualità 2021-2022 la somma di 3.430.000 euro per la messa a norma, l'efficientamento, l'ampliamento e il completamento degli impianti e per la nuova impiantistica sportiva in aree carenti o a vocazione turistica. Una parte di questa somma sarà anche destinata all'impiantistica sportiva di livello nazionale e internazionale e la rigenerazione dell'erba sintetica. L'investimento sportivo più importante della regione Piemonte degli ultimi dieci anni sull'impiantistica, questo perché tutte le strutture iniziano a essere desuete e ammalorate e quindi vogliamo dare energia nuova a tutte le associazioni sportive. Abbiamo fatto tanto per poterle salvare dal Covid, stiamo facendo tanto per la regione europea dello sport 2022, però non ci può essere sport senza impiantistica sportiva adeguata ed è per questo che abbiamo deciso di fare uno sforzo molto importante che nelle more del prossimo bilancio vedremo di rafforzare ulteriormente perché non ci dispiacerebbe provare a raddoppiare questa cifra, perché raddoppiare vorrebbe dire ancora più possibilità per le associazioni sportive di mettere a norma gli impianti. Crediamo fortemente nello sport sia come volano turistico che come è inclusione sociale, questo darà la possibilità a tanti giovani di potersi mettere in discussione, di poter tornare nelle loro palazzetti, nelle loro strutture, nelle loro palestre per fare sempre più sport. Inaugurato a Torino il Master in Virologia Ambientale. Unico in Italia nel suo genere, il Master nasce per rispondere all'esigenza sociale di formare una nuova figura professionale ad oggi assente, ma di cruciale utilità per affrontare i rischi pandemici presenti e futuri. Il virologo ambientale. È stato fatto tramite ARPA e l'Università di Torino e servirà proprio per avere persone competenti, cose che ci mancavano prima della pandemia, per capire l'evoluzione nei posti chiusi e all'aperto dei vari virus. Ovviamente oggi l'attenzione è specifica sul Covid, però capire questo e capire anche come sequenziare, analizzare i virus, coltivarli, può aiutare anche la politica come è avvenuto a livello nazionale, a livello regionale, anche le percentuali all'interno dei posti chiusi, come possono essere gli ospedali, l'RSA, i treni, le scuole, perché a volte un virus rispetto ad un altro ha tante caratteristiche, non sono tutti uguali. E lo stesso Covid oggi abbiamo delle informazioni che un anno e mezzo fa non avevamo, come si evolve nei posti chiusi, se sono i FI, che tipo di filtri bisogna adottare. E tutta questa attività ci permetterà di avere persone nuove, formate e aiuteranno da qua in poi a prevenire future pandemie che, come dicono gli esperti, purtroppo continueranno a colpire nel futuro. Quindi è importante anticipare gli eventi e conoscerli. E faremo tutte le analisi, come stiamo già facendo all'interno del laboratorio di ARPA Piemonte alla loggia, soprattutto anche nelle acque nell'aria, con degli espiratori che, con un sistema molto complesso, ci permette di analizzare e capire anche se sono vari varianti e come si evolvono i virus.